Matudy è un giocatore, come ho sempre detto, che ha giocato con tutti gli allenatori che ha avuto e quando i giocatori giocano con tutti gli allenatori vuol dire che hanno delle qualità importanti. Poi ripeto, Matudy da quando è arrivato qui credo che abbia detto quattro parole però fortunatamente in campo corre, ci dà dentro, è un ragazzo molto intelligente perché non sembra, ma per giocare a calcio bisogna avere un buon consente di intelligenza molto alto perché è più facile lavorare con i giocatori intelligenti.